Una passione per i motori cominciata in tenera età, il sogno delle due ruote che diventa reale con il passare del tempo. Giuseppe Ferruccio, da capo d'Orlando, nei giorni scorsi è diventato campione siciliano della classe 600 amatori, in sella alla sua Kawasaki Ninja targata Infodrive. Un'emozione unica, primo anno di gare, un po' di tensione, soprattutto alla prima gara, confrontarmi con più di 30 piloti a livello regionale, di alto o meglio livello, comunque è stata una bella emozione. Ci sono stati dei momenti forti, sia il pre-gara che durante la gara, però è andata sopra le aspettative il risultato finale. Si poteva fare di più, però questo è da sprono per il prossimo anno sicuramente. Ci sono state tre tappe, tutte allo stesso circuito di Ragalmuto-Valle dei Templi. Abbiamo sempre lottato, per quanto riguarda la mia categoria, con lo stesso pilota, perché alla fine il passo era quello, i tempi su per giù erano quelli lì. La prima gara è andata bene per me, sono stato davanti fin dall'inizio e poi il mio avversario purtroppo è caduto, quindi è stata una vittoria molto facile. La seconda invece è stata molto più combattuta, io venivo da un periodo post-Covid, quindi non ero messo benissimo, è stato un po' debilitato dal punto di vista delle forze, però è stato bello perché c'è stata una bella battaglia, alla fine lo spunta da io. Io avevo un Kawasaki Ninja 636 del 2019, completamente stock, originale, forse pure troppo, che comunque aveva il minimo per poter partecipare a una gara, in sicurezza soprattutto. Abbiamo avuto, da questo punto di vista, anche dei problemi di geometrie, di setup all'inizio stagione che mi sono portato poi fino alla fine. Dopo che abbiamo finito la gara abbiamo capito qual era il problema, ma da quello che ho capito, dalla poca esperienza, è sempre così. Il prossimo anno vorrei partecipare a un nazionale. Ci sono molte difficoltà dal punto di vista non tanto del budget, perché comunque viviamo in una realtà dove certe avventure, esperienze comunque vengono apprezzate e supportate. Il livello è troppo alto per quello che attualmente posso dare io, e quindi stiamo valutando dei campionati minori, sempre nazionali, però non a livello proprio di top di categoria.